È stata intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la sala riunioni della Cassa Edile di Enna. La cerimonia è avvenuta ieri alla presenza del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra e di diverse autorità del territorio. La proposta di intitolare la sala ai due giudici è stata del Presidente dell'ENTE, il Cavaliere Gaetano Debole, accolta e condivisa dal Comitato di Gestione. Alla cerimonia è presente anche una delegazione di studenti dell'Istituto Superiore Medi Vacalluzzo di Leonforte. Questo diciamo che è un primo passo. Partiamo da un senso simbologo e poi lo vogliamo trasformare in fatti pratici, perché la sicurezza sul lavoro deve diventare un'abitudine, non il contrario. Mira pure ad andare ad affermare i principi di legalità e trasparenza sul settore dell'edilizia. E come abbiamo detto prima, negli anni è stato sempre interessato dalla presenza di infiltrazione della criminalità organizzata. Quindi l'ENTE si pone in una situazione di essere centrale in questo cambio di percorso, sia per essere un esempio per tutti i colleghi costruttori, sia anche per gli operai che ovviamente lavorano con queste aziende. Muovere la vicinanza alle istituzioni, far sentire le aziende vicine alle istituzioni, cercare di cambiare, di dare un piccolo contributo in modo che possiamo migliorare la vita degli imprenditori nel nostro territorio, in modo che ci sia meno concorrenza sleale. Gli operai per noi sono il pulcro, per le aziende sono la cosa principale, un patrimonio. E quindi tutelare la loro salute e la loro sicurezza è il nostro obiettivo prioritario. Promuovere anche l'aggiornamento di corsi, anche professionali specializzati. Ci stiamo impegnando e l'ANCE sta mettendo delle somme importanti per promuovere sul nostro territorio la formazione di personale specializzato, che sarà nel prossimo futuro necessaria, perché purtroppo il nostro territorio si sta spopolando e le figure professionali per l'edilizia mangano, mangano del tutto. Un bel momento di riflessione, un ottimo spunto di riflessione che soprattutto resta in questa sede. Ogni volta che le persone entreranno qui dentro avranno l'occasione di guardare Falcone e Borsellino e di ricordarsi che è il principio per il quale la legalità si pratica ma non si predica. C'è tanto da lavorare e ci sono tanti errori da evitare. Uno di questi potrebbe essere quello di fermarsi di fronte alla lotta alla mafia in questo momento considerati, o comunque allentare la presa, considerati gli eventi degli ultimi giorni. Ecco, questo secondo me sarebbe l'errore più grave, perché di mafia si deve parlare, la mafia si deve conoscere. Erano i ragazzi stessi che oggi ci hanno lanciato l'allarme sulla romanticizzazione della criminalità, che si vede nei mass media, che si vede sui social ogni giorno, quotidianamente. Quindi investire tanto sui giovani, sulla formazione, educarli alla legalità, che poi altro non significa che educarli alla cittadinanza attiva, che è fatta di diritti, ma è fatta di doveri. Ritengo che sia un gesto simbolico molto significativo. Io lo considero sinceramente una sorta di dichiarazione di intenti in diretta da parte del presidente di questo ente, perché intitolare una sala nella quale lui e gli altri suoi collaboratori si riuniranno per prendere delle decisioni importanti in merito a quelle che sono i compiti istituzionali dell'ente significa voler improntare l'adozione di queste decisioni a quei valori di legalità e di rispetto delle regole che ormai nell'immaginario collettivo il dottor Falcone e il dottor Borsellino rappresentano a livello, possiamo dire, universale. Peraltro mi piace sottolineare che proprio qui a Enna, intitolare locali come questo, specialmente al dottor Paolo Borsellino, è ancora più significativo perché mi piace ricordare, penso che molti lo sapranno, ma è giusto ricordare che Paolo Borsellino iniziò la sua carriera di magistrato proprio qui a Enna. Io peraltro ho avuto il piacere di avere regalato una sorta di edizione rilegata della prima sentenza, una sentenza civile scritta appunto da Paolo Borsellino qui a Enna. Peraltro recentemente mi era stato anche proposto di fare una stessa edizione rilegata della prima sentenza penale scritta da Paolo Borsellino. Spero che anche questa iniziativa sia andata in porto e peraltro devo dire, e anche questa è una constatazione che faccio con piacere, che in questo territorio, forse per l'attenzione che Paolo Borsellino in particolare, ma per il motivo che ho detto merita, non è la prima volta che ci sono delle intitolazioni di locali simili appunto alla memoria dei due magistrati, ormai simboli della lotta alla mafia. Nel mio ufficio, nella procura di Enna, dispone di un auditorium che appunto è intitolato a Falcone Borsellino pure e pure e pure esso e qualche anno fa ho partecipato sempre con piacere e con compiacimento alla cerimonia di intitolazione, mi pare, della biblioteca di Villa Rosa, se non ricordo male, sempre a Falcone Borsellino. Quindi meritoriamente devo dire che il territorio di Enna pone una particolare attenzione alla memoria di questi magistrati con gesti significativi come quello di Enno ripetuti e per l'incarico che rappresento non posso che esprimano il mio compiacimento per questo tipo di iniziative. Noi già come Prefettura, ma di concerto con tutte le altre istituzioni, ma anche con la società civile, già da tempo ci stiamo occupando dello sviluppo e della legalità del territorio. Quindi l'attenzione della Cassedile, che tra l'altro è tra gli scopi fondanti alla Cassedile stesso per la sicurezza sul lavoro, ma anche per la legalità nella gestione degli appalti, condivide esattamente quello che sono le finalità istituzionali della Prefettura. Quindi a breve realizzeremo un tavolo anche di concerto con l'ispettorato del lavoro e si è dichiarato disponibile anche il procuratore per individuare gli strumenti per rendere il lavoro dignitoso, legale, ma principalmente sicuro. Io sono particolarmente ottimista perché relativamente a questo singolo evento, a questa singola intitolazione non avviene il 23 maggio, non avviene il 19 luglio, avviene a distanza di tre giorni dalla consegna o cattura di Matteo Messina Denaro alle autorità dello Stato italiano e avviene soprattutto all'interno della Sicilia, all'interno quindi di una realtà che con Cosa Nostra ha una storia di sofferenza enorme. Se anche all'interno della Sicilia, se anche in territori che sono limitrofi a quella provincia, Caltanissetta, in cui il sistema montante aveva mistificato il senso dello Stato, la credibilità delle istituzioni, se anche all'interno della Sicilia si recupera il valore dell'azione di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, ma anche delle loro scorte, perché non sono stati sacrificati soltanto loro, ma anche i loro familiari e le loro scorte, ecco questo è un buon segnale. E mi fa piacere che questo segnale provenga dal mondo dell'edilizia, dei costruttori edili, perché sappiamo tutti che in Italia, ma in particolar modo in Italia meridionale ed in Sicilia, è l'edilizia, è il volano dell'economia. Se noi riusciamo a infondere senso di giustizia e rispetto della legalità in queste realtà, noi possiamo ancora giocarci la partita. Badate, non dico vincerla, dico giocarcela, perché a mio avviso lo Stato è, ahimè, molto molto compromesso. Siamo confinati con la provincia di Caltanissetta e ricordo a tutti che sulla questione montante, diciamo così, si è calato il silenzio, perché evidentemente su certi poteri, legati anche al mondo economico, al mondo imprenditoriale, ma anche e soprattutto al mondo dell'informazione, al mondo della magistratura, al mondo delle forze dell'ordine, su questi poteri non si deve far luce.